Sono più di 30 i capi di accusa per frode aziendale a cui dovrà rispondere. Donald Trump è il primo ex presidente degli Stati Uniti d'America ad essere incriminato. Fuori dai palazzi la piazza si infiamma con il tycoon che soffia su uno dei processi più attenzionati degli USA, si dichiara perseguitato e ha scritto ai sostenitori per sollecitare donazioni. Potrebbe consegnarsi alle autorità per la formalizzazione delle accuse a suo carico martedì prossimo il 4 aprile, secondo quanto riferito dal New York Times. A New York impossibile un processo giusto, si è affrettato ad affermare Trump. Hanno portato, ha scritto su Truth Social, questa accusa falsa, corrotta e vergognosa contro di me solo perché sto con il popolo americano e sanno che non posso avere un processo eco a New York. Le accuse avanzate contro Donald Trump riguardano il pagamento avvenuto nel 2016 di 130 mila dollari in nero e in piena campagna presidenziale per comprare il silenzio della ex porno star Stormy Daniels su una relazione con la donna che aveva tentato, sin dal 2011, di vendere la storia ai giornali. L'avvocato di Trump, Michael Cohen, secondo le accuse che gli hanno valso una condanna a tre anni di carcere, anticipò il pagamento che gli venne poi restituito dopo la vittoria alle elezioni alla presidenza USA. Donald Trump si è sempre difeso affermando che si è trattato del pagamento di un onorario all'avvocato e non per il caso della donna. La Casa Bianca ha scelto di non commentare l'incriminazione.